Buongiorno a tutti, Giuseppe Arniti dall'Aristopio Lombardia, la più bella delle che ci sia. Oggi lasciamo parlare gli altri per sentire cosa dicono di noi. Ascoltali bene perché sono cose veramente interessanti. Una buona visione, ciao e a presto! Buongiorno, continuano le nostre testimonianze alla scoperta del mondo Aristopio. Oggi sono qui con Walter, il nostro specialist dei vini. Ciao Walter! Ciao a voi, benvenuti! Come stai? Tutto bene? Tutto bene, siamo carichi. Walter, tu da quanti anni è che lavori in Ristopio? Quasi dieci anni e devo dire che mi sono sempre trovato benissimo. Oggi nel vino ancora meglio. Beh, dieci anni vuol dire insomma che hai acquisito una gran bella esperienza. Secondo te qual è l'elemento che differenzia Ristopio rispetto alla concorrenza? Devo dire innanzitutto al di là dei prodotti che sono ottimi, ma come molti altri concorrenti hanno, non nascondiamoci. Noi stiamo vivendo nel fare che cosa? Uno, un servizio meraviglioso, quindi accontentiamo il cliente su qualsiasi iniziativa a intenzione di attuare. Nell'ambito dei vini siamo bravi nel far cosa? Nel dare formazione. Quindi vini buoni ce ne sono sempre. Noi abbiamo un'Italia meravigliosa. Noi siamo riusciti ad avere un buonissimo rapporto di qualità-prezzo. Riusciamo ad avere un servizio che accontenta il cliente facendogli fare il meno scorte possibili e quindi una rotazione del prodotto sempre fresco. Consulenza perché all'interno della nostra azienda facciamo delle academy con dei professionisti, sommelier, enologi, quindi che riescono a dare il massimo della comunicazione, a prescindere dal vino che andranno a bere. E' bello perché se riusciamo a crescere, quindi ad essere un po' più acculturati in questo mondo che è meraviglioso e parlo di vino, probabilmente saremo in grado di distinguere meglio la qualità, di distinguere meglio le opportunità, le offerte che ci vengono gestite. State attenti, non fatevi ingannare solo dal prezzo e ancora per non finire visita presso le nostre cantine, guidate, vi accompagniamo noi, quindi partecipate, è veramente un'esperienza meravigliosa. E poi che altro? Ma veniteci a scoprire! Beh, allora su questo splendido invito da parte del nostro Walter noi vi salutiamo, qui da Risto Più è tutto, alla prossima!